Ben trovati cari amici, allora come ogni venerdì anche oggi leggiamo la parola di Dio di domenica che è la ventinovesima del tempo ordinario con delle bellissime letture che faremo tutte e tre nel corso della trasmissione e come sempre così con un po' di condivisione, non un'omelia, è un modo per stare insieme e accompagnati proprio dalla parola di Dio. Allora iniziamo subito con la prima lettura che è tratta dal libro del profeta Isaia e ci accompagnerà in questa lettura ecco questa bellissima immagine che mettiamo subito, ecco vedete l'immagine di Gesù presente sulla sindone, il negativo sindonico. Ecco il libro dal libro del profeta Isaia. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà a sé stesso in sacrificio di riparazione vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un somo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un somo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Ecco allora avete visto la bellissima immagine di Gesù che ha accompagnato queste due letture che vanno proprio insieme in modo perfetto, poi vedremo con qualche parola. Ecco e poi c'è il Vangelo tratto da Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli, maestro vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro voi non sapete quello che chiedete, potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero lo possiamo. E Gesù disse loro il calice che io bevo anche voi lo berrete e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri dieci avendo sentito cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Allora ecco che abbiamo queste bellissime letture che come sempre ecco la prima lettura del Vangelo si richiamano e abbiamo una seconda lettura che è molto più chiara delle altre volte ecco diciamo un po' molte volte va un po' decifrata decifrata nel senso capito il senso per cui è posta diciamo in questa in questa liturgia ecco perché tante volte è proprio la chiave di interpretazione. Bene allora abbiamo preso la prima lettura ci parla di questa profezia Isaia sapete benissimo che è veramente uno dei profeti che ha tracciato la così queste immagini del servo di Yahweh del servo sofferente meglio potremmo dire di chiunque altro cioè con una precisione sconvolgente tanto è davvero entra perfino nei dettagli e infatti troviamo in questa lettura molto breve già delle pennellate molto brevi ma chiarissime al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione vedrà una discendenza vivrà a lungo si compirà per mezzo suo la volontà del Signore dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza il giusto mio servo giustificherà molti egli si addosserà le loro iniquità e come mentre dicevamo questa lettura prima avete visto la bella immagine della sindone no allora vedendo contemporaneamente l'immagine leggendo questa parola di Dio già vediamo al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori abbiamo visto no quel quel volto così tumefatto pieno di ferite già nonostante sia diciamo non è una fotografia ma è diciamo un'immagine lasciata ecco in modo prodigioso già si colgono qualcuno ha fatto anche la prova a contare le ferite che ci sono e si tratta di centinaia di ferite no e non le vediamo tutte anche se possiamo vedere diciamo il dritto e il rovescio diciamo della più che il dritto e il rovescio il davanti e il dietro del corpo di Gesù ecco su questo lungo lenzuolo non riusciamo certamente a vedere tutte quante le ferite ma quelle che si vedono sono centinaia e quindi vedete che che cosa incredibile è una delle prime osservazioni che potrebbero così balenare per la mente ma insomma possibile al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori ma perché il Signore diciamo in qualche modo gode del prostrare le sue creature cioè Gesù è vero uomo è vero Dio no ma noi cogliamo anche l'aspetto che ci riguarda perché la parola di Dio ha vari sensi uno è quello indubbiamente storico uno è quello che riguarda Gesù proprio in modo particolare quindi in questo caso qui sta proprio parlando del servo sofferente no ma riguarda anche le anime quindi perché ogni anima ha un suo percorso proprio in cui vede realizzarsi questi misteri no ovviamente nel limite della nostra creaturalità allora uno potrebbe dire al Signore è piaciuto prostrarlo con dolore ma perché il Signore gode di prostrare le creature nel dolore godeva di prostrare Gesù il suo figlio nel dolore no non è questo assolutamente il senso del del prostrare ma è proprio quello che vediamo dopo nella stessa lettura già abbiamo una spiegazione no quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione vedrà una discendenza vivrà lungo si compirà per mezzo suo la volontà del Signore dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza cioè vedete che il momento della del dolore della sofferenza del martirio è un momento di passaggio che apre a una gloria infinitamente superiore quindi come dire non è da leggere come un perché quando capita uno magari non ci pensa perché dice si vede Gesù no uno siamo sempre un po' o molte volte ecco un po' superficiali un po' distratti e ci abbiamo fatto ormai un po' un po' l'abitudine e allora non ci fa meraviglia diciamo sì abbiamo Gesù è crociviso però è risorto così ma quando lo proviamo nella nostra vita quando arrivano le prove nella nostra vita è dura e tante volte non riusciamo a comprendere e tante volte ci lamentiamo se addirittura non arriviamo a a ribellarci invece il Signore attraverso queste prove non solo ci mostra la nostra diciamo levatura spirituale a che punto è cioè nel senso che attraverso queste prove io posso comprendere se sto facendo un cammino oppure no cioè se vado avanti o se sono andato indietro nella vita spirituale ma serve anche per voi pensate i martiri pensate i santi qualunque santo qualunque martire che quando ne leggiamo la vita e dovremmo farlo spesso ecco perché sono delle cose davvero edificanti sommamente edificanti non per niente appunto sono canonizzati cioè resi canone regola di vita no perché quando vediamo loro vediamo come dovremmo essere noi ecco rimaniamo ammirati e per l'eroicità che hanno avuto nella loro vita no ma questa eroicità ha potuto emergere proprio perché sono stati prostrati nel dolore e hanno tirato fuori il meglio di sé fino all'eroismo no e per questo il Signore che non si fa vincere in generosità gli ha ripagati come dice San Paolo in un modo che non è assolutamente paragonabile alle sofferenze del momento presente quindi vedete non è il Signore un sadico che prostra le creature per godere della sofferenza ma per donare questa gloria immensa ci tengo a farvi rivedere riprendiamo questa immagine qua perché merita ecco vedete già questa questa è l'immagine che da sempre fin da quando ero bambino mi ha sempre sconvolto dalla bellezza nemmeno dicevo qualche giorno fa un'amica nemmeno le elaborazioni della NASA che ce lo fanno vedere a colori con diciamo togliendo le varie ferite i vari segni con gli occhi aperti oppure l'ultimissima immagine che hanno elaborato nemmeno quelle riescono a rendere a mio avviso ecco la bellezza di questo volto così come lo vediamo in questo negativo ha una maestà una serenità che è qualcosa di straordinario e questo ha cresciuto ancora di più dal fatto che è un volto sofferente cioè il volto di una persona che ha subito una sofferenza come nessun'altra creatura ha mai subito quindi ecce ha questa bellezza ha questa bellezza veramente incredibile no nonostante questo vedete c'è proprio un volto è proprio come dice ma dove lo vedete cioè dove sta questa bellezza è qualcosa che è quasi inafferrabile no perché vedete i baffi dal lato sinistro sono addirittura storti quello è il segno della bastonata che riporta anche il vangelo no che è stato colpito al volto veniva colpito con un bastone anche e poi tutte le ferite sulla fronte i rivoli di sangue che scendono dalla coronazione di spine insomma è un volto davvero sofferente eppure c'è questa bellezza inafferrabile che emerge da questo volto no e questa bellezza da dove viene viene da quello che ha patito quindi signore quando prostra le creature nel dolore è per far venire fuori il meglio per avere di che ricompensarli infinitamente di più e poi ecco che abbiamo quindi la seconda lettura infatti tratta dalla lettera agli ebrei che ce lo dice molto chiaramente no dice poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli Gesù il figlio di Dio manteniamo ferma la professione della fede infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi escluso il peccato e quindi vedete che proprio perché Gesù un altro motivo diciamo della sofferenza è proprio il confortarci così come avviene in Gesù sommamente nei santi modo sommo ma sempre relativo perché sono creature ma abbiamo un conforto perché ci vediamo circondati da fratelli e sorelle e dal nostro Dio e nostro maestro Gesù Cristo che sono passati attraverso queste stesse nostre tribolazioni anzi molto di più ovviamente no però se ci sono passati loro e hanno vinto no Gesù uno dice ma Gesù Gesù è vero uomo oltre che vero Dio è anche vero Dio è perché oggi la tendenza è quello di dire un uomo di Dio no è vero uomo è vero Dio e qualcun altro allora potrebbe dire ma se è vero Dio allora non è come me invece è vero uomo e i santi fratelli e sorelle nostre prima di tutta la Madonna che è la martire per eccellenza come Gesù il martire per eccellenza il re dei martiri noi non ci fermiamo abbastanza a riflettere tante volte su quello che hanno patito per la nostra redenzione e quindi ecco se ci sono passati loro e hanno vinto possiamo farcela anche noi anche perché è a questo che il Signore ci chiama e le sofferenze proprio ci fanno fanno venire fuori proprio sono proprio lì per far venire fuori il meglio di noi perché davvero noi siamo chiamati al di più del vivere la nostra routine quotidiana così anche se ci si può santificare e può essere un martirio anche la routine quotidiana per carità ma io intendo nel senso negativo la routine quotidiana cioè quella sì insomma la poltrona dopo una giornata passata così sul lavoro mi siedo in poltrona accendo la tv e spendo la mia vita anni dopo anni così noi non siamo chiamati a questo siamo chiamati molto di più e proprio queste circostanze fanno venire fuori davvero il meglio tanto è vero che la gloria che hanno i santi noi rimaniamo incantati quando leggiamo la vita dei santi proprio ieri o l'altro ieri leggevo la vita della deata Elisabetta Canori Mora che è qualcosa di stupendo vi invito a leggerla tutti tanto su internet la trovate Elisabetta Canori Mora una santa una beata ecco comunque santa ovviamente che ha molto da dire a noi oggi non dico di più perché così vi metto la curiosità di andare a leggere se già non la conoscete ma è qualcosa di bellissimo e proprio per il nostro tempo bene poi abbiamo il Vangelo oggi la farò un po' più lunga perché è venerdì e perché le letture sono troppo belle per passarci sopra così questa lettura che va un po' ecco a mostrarci invece quello che è un po' più il lato che emerge da noi dalla nostra umanità che tante volte scadiamo in queste cose allora c'è questo Giacomo e Giovanni che dicono si avvicinano al maestro mentre lui appunto sta facendo il discorso della passione sta annunciando la sua passione loro due si avvicinano e gli dicono maestro vogliamo vogliamo capito vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo quante volte noi lo diciamo nella preghiera magari non arriviamo a dirlo proprio così signore voglio che tu fai questo fai quest'altro però tante volte diciamo ma perché non fai questo perché non fai questa non è la stessa cosa è uguale signore vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo già questo è la nostra fotografia vedete come il Vangelo ha molti aspetti c'è quello storico c'è l'episodio storicamente avvenuto ma c'è quello che ci riguarda siamo noi che facciamo così noi che diciamo al Signore tante volte vogliamo questo vogliamo quest'altro vogliamo più soldi vogliamo un lavoro migliore vogliamo 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 no e Gesù dice che cosa volete che io faccia per voi concedici di sedere gli dicono nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra c'è una cosa diciamo un pochino meglio di altri che magari chiedono chiedono cose magari un pochino più terra terra però attenzione perché la gloria che stanno chiedendo Giacomo e Giovanni non è la gloria celeste stanno chiedendo proprio per la concezione che avevano all'epoca che Gesù fosse un re di questo mondo che doveva insomma si faceva finta di niente allora è come dire faceva finta di portare avanti una vita umile così per poi a un certo punto secondo la loro mentalità avrebbe comunque sfondato e sarebbe diventato re re di Israele avrebbe fatto ritornare Israele alla gloria di un tempo come era all'epoca del re Davide cioè il momento d'oro di Israele e quindi ecco loro non credevano realmente che Gesù dovesse rimanere così come lo vedevano ma che insomma stesse tenendo un profilo basso come diremmo noi oggi per poi comunque fare un esploà di così e allora la gloria di cui parlano Giacomo e Giovanni non è la gloria celeste è la gloria di questo mondo dove loro speravano che quando Gesù fosse arrivato al potere fosse diventato finalmente re loro potevano assidersi ecco al suo fianco uno da una parte e uno dall'altra e che cosa succede? che Gesù ecco prima li richiama dicendo ma voi non sapete quello che chiedete in effetti non sapevano cioè loro così no pensavano ma sì ecco insomma siamo discepoli di Gesù basta chiederle lui ce lo concede e finisce lì e lui invece come fa sempre porta sul livello vero e spirituale ma anche vero anche materialmente voi non sapete quello che chiedete perché essere diciamo sedere nella sua gloria sapete che Giovanni proprio uno di questi due che poi ha scritto il Vangelo parla di gloria e vedete come ha cambiato attraverso la Pentecoste la passione prima ma anche la Pentecoste la discesa dello Spirito Santo ha cambiato ha compreso veramente che cosa significava quello di cui parlava Gesù e Giovanni quando parla di gloria e di glorificazione di Gesù intende proprio la croce ma l'ha capito dopo qui non lo capiva ecco qui pensava proprio di potersi sedere nella gloria umana proprio con Gesù re e loro i ministri e quindi Gesù li fa riflettere ma che cosa succede che dice gli altri dieci avendo sentito cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni ma non perché erano spirituali cioè avevano capito di più eccetera per cui hanno detto ma che cosa avete fatto avete come fate a chiedere questa cosa siete siete non avete capito niente no chiedono si indignano perché loro volevano le stesse identiche cose e si vedevano soffiato il posto che magari speravano per loro quindi c'è questo arrivismo no volevano tutti le stesse cose tutti sedersi al fianco quindi nessuno aveva capito veramente questa gloria in che cosa consisteva Gesù dice ecco anche voi ci passerete certamente no ma non sta a me concederlo è per coloro per i quali è stato preparato una frase diciamo che indubbiamente non non c'è una predestinazione no ciascuno crea diciamo il proprio destino con le proprie scelte no e quindi anche questo potersi sedere dipende chiaramente dalla risposta che uno dà quindi non è Gesù che io ti scelgo cioè lui ci chiama ci invita a seguirlo no ci dà anche una missione ma sta a noi appunto a cogliere questa missione e viverla in pienezza quindi il concedere tra virgolette far sì che noi sediamo sta alla nostra volontà più che lui vorrebbe tutti seduti alla sua destra non alla sinistra alla sinistra ci saranno i reprobi lui li vuole tutti seduti alla destra però purtroppo c'è anche chi finisce a sinistra nel senso tra i capri tra quelli che hanno detto di no e gli si sono resi nemici quindi non sta a me concederlo possiamo intenderlo proprio così cioè dipende dalla nostra volontà c'è una vocazione c'è una chiamata e c'è una risposta quindi lui vorrebbe tutti però alcuni poi dicono di no e come è differente il modo veramente di rapportarsi dei discepoli di noi perché siamo noi possiamo vedere proprio noi al loro posto che cerchiamo sempre subito la gloria ma quante volte la parola di Dio ci dice prima della gloria c'è l'umiltà non c'è solo la gloria e non c'è soprattutto la gloria di questo mondo cioè il in qualche modo lo star bene no così a buon mercato c'è una gloria che viene raggiunta attraverso tante sofferenze ma perché? perché è una gloria vera dice voi sapete ecco che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono tra voi però non è così ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore i valori completamente rovesciati perché? perché la grandezza la vera grandezza la otteniamo quando noi passiamo attraverso quella prostrazione di cui ci parla lo Spirito Santo nel libro del profeta Isaia al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori lì diventiamo grandi ed è la vera grandezza che viene fuori basta leggere e vi invito a farlo leggete le vite dei santi le vite dei martiri e vi innamorerete perché sono di una bellezza davvero di un conforto immenso e di una bellezza immenso perché uno dice ma come ha fatto no? prima vi dicevo la beata Elisabetta Canori Mora quando leggerete spero che andrete a leggere appunto questa vita ma come ha fatto? ecco la grazia di Dio e non non abbiamo scuse no? eh ma lei no no cioè perché tante volte diceva eh ma Gesù Gesù eh ma la Madonna e la Madonna e allora questi fratelli e queste sorelle come ha fatto? e quindi siamo chiamati anche noi bene allora ci fermiamo qui vi rioffro per qualche istante ancora questa bellissima immagine eh così che ve la portate nel cuore vi auguro una buona continuazione e come sempre vi do appuntamento lunedì alla stessa ora